Cigep 2024 continua, ci troviamo allo stand di Epta, un gigante che ha superato un miliardo di euro di fatturato nel 2022 nell'ambito della refrigerazione industriale e professionale e oggi per rappresentare l'azienda c'è il direttore commerciale dell'azienda Massimo Bravo. Caro Massimo è un gran piacere rivederti dopo lungo tempo. Grazie Fabio, un piacere rivedere anche a te e dopo tanti anni ritrovarsi ancora in queste fiere. Dopo un paio d'anni dall'ultima volta ci ritroviamo con un'azienda che è diventata davvero un gigante, forse la più grande azienda al mondo in termini di fatturato nell'ambito della rifrigerazione industriale e professionale. Facciamo un riepilogo di un minuto su Gruppo Epta. Esatto Fabio, come hai detto bene tu Epta è diventata leader mondiale nella rifrigerazione industriale e commerciale. Nei nostri brand Epta in Europa ha IRP come per le vetrine refrigerate, Misa per le celle frigorifere, Aerocrio per i banchi da pasticceria e da salumeria e Costan che è leader nella retail e nella produzione dei banchi per supermercati. Questo ci ha permesso di essere leader nella rifrigerazione, le acquisizioni fatte in America e negli ultimi recentemente di Wisman ci permette di essere veramente un colosso nella rifrigerazione commerciale. E qui a CIGEP 2024 che cosa presentate? Allora noi ci rifacciamo a CIGEP dopo 5 anni, abbiamo deciso di ripartecipare proprio perché abbiamo iniziato a sviluppare un concetto che ci permette di essere presenti a 360 gradi in tutto quello che è il mondo delle pasticcerie, gelaterie o locali in generale. In questo stand è stato sviluppato direttamente dal nostro divisione concept e vuole riprendere un po' una bar, pasticceria, gelateria sia con il servizio indoor attraverso le nostre vetrine sia con il servizio outdoor attraverso le nostre vending machine. Le vending machine che abbiamo visto negli ultimi secondi nelle riprese che abbiamo effettuato e che rappresentano un punto importantissimo anche per la vostra divisione. Corretto, quindi oltre a tutta la gamma di vetrine e attrezzature che esporremo per la vendita del gelato tradizionale attraverso appunto la vendita assistita, abbiamo presentato il concetto di vendita del gelato artigianale attraverso un distributore automatico e questo ci permette di poter dare un servizio completo a tutti quelli che vogliono fare un servizio di H24. Massimo, intorno a noi, insomma noi ci troviamo, come dire, a nostro agio perché siamo in un ambiente che simula quello di una pasticceria. Corretto, abbiamo proprio voluto rappresentare una pasticceria gelateria, quindi abbiamo nella nostra parte qui interna la vetrina gelato mantecato dove appunto esponiamo i nostri gelati, partiamo da una 16 gusti fino a una 20 gusti con un nuovo sistema di refrigerazione ibrido che convoglia sia il prodotto statico, la refrigerazione statica che la refrigerazione ventilata. Nel contempo abbiamo qui alla mia destra, un bancone refrigerato di progettazione Eurocrio per il mantenimento di dolci e dolci e qualunque altro prodotto si voglia esporre alla vendita, torte e quant'altro. Ma non finisce qui perché nella parte in cui noi non riusciamo ad avere accesso c'è anche una cella frigorifero. Esatto, quindi la nostra divisione completa tutto quello che è la presentazione di un bar, di una pasticceria con i nostri sistemi di stoccaggio, quindi la nostra cella frigorifera con il sistema brevettati oppure gli armadi inox che noi progettiamo e vendiamo direttamente da Casale. Insomma, veramente con Ept avete a disposizione un'offerta globale in grado di riuscire a soddisfare tutte le esigenze di coloro che desiderano arredare una pasticceria, un bar, una gelateria e tutto ciò che è in ambito professionale a tema con questa fiera. Esatto, corretto. Ept si propone proprio in questa fiera con un servizio a 360 gradi. E allora, per tutti coloro che desiderano avere qualche informazione in più, avere il numero di un concessionario, entrare in contatto con un agente che possa fornirgli maggiori informazioni senza alcun impegno. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? Allora, io direi che vi consigliamo di visitare il nostro sito e di comunicare la pagina, di compilare la pagina dei contatti che sarete sicuramente richiamati. E poi, naturalmente, in funzione dell'area geografica, della tipologia di area commerciale, che sia una pasticceria, che sia una gelateria, che sia anche eventualmente un bar, naturalmente ci sarà il delegato e o il concessionario di zona a cui verranno mandati. Esatto, esatto, verranno dirottati poi al funzionario della zona stessa. Massimo, grazie, grazie, ci rivediamo prestissimo con altra fiera e con altre novità, ne sono assolutamente certo. Certo, grazie Fabio e grazie a tutti per gli ascolti. Vi aspettiamo.